Facciamo così, dedichiamo queste immagini Oddio Alla passione Alla passione per la natura di Licia Colò Perché è stata, credo, la prima Che prima in media se poi in Rai Ha trasmesso proprio questa La prima voce femminile forse che ha trasmesso la passione della natura e degli animali A tutti i tre gli spettatori Sono 35 anni Ho iniziato nell'89 Io me lo ricordo l'anno in cui ho iniziato Nell'89 ho iniziato a occuparmi di natura Invece 35 anni che faccio televisione Ah ok Dall'89 Quindi sono 30 anni che si occupa di natura e televisione E noi abbiamo riassunto 30 anni in un minuto e 08 Mamma mia Ma che roba, vai Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento con Gheo & Gheo È una trasmissione nella quale parleremo di natura, di ambiente Vi racconteremo storie di uomini E parleremo anche di scienza La capitale della Francia qual è? Parigi Oh che brava Ditemi che benvenuto, non si poteva sognare di meglio Sono al circolo con l'artito, thank you Finalmente ci sono arrivata Quella montagna là in fondo È il monte Kilimanjaro Le distanze non ci allontanano Anzi, io sono convinta ci possono avvicinare Ciao, bye 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 Però hai una capretta a casa? In realtà ne ho due Due capre? Sono due capre E non sono caprette perché sono 60 chili Non lo so Caproni Capra 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 Insomma, ma non è che io volessi tenere le capre in casa Perché se avesse una fattoria ovviamente sì Però è successo perché erano destinati al macello Poi alla fine